Sei cattivo con me perché ti svegli alle tre per guardare quei film un po' porno Su, sei cattivo con me perché mi guardi come se io fossi un'attrice un po' porno Porno, 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 porno Tu sei cattivo con me perché ti piace sognare quei tipi di donna un po' porno Tu sei cattivo con me perché Porno, 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 porno Porno, 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 porno Ma quando viene sera Tu mi parli d'amore E guardami negli occhi Mi fai sentire davvero una tonno Sei cattivo Sei cattivo con me perché Ti piace sognare quei tipi di donna un po' porno Tu sei cattivo con me perché Mi lasci il tuo sorrere e ti guardi quei film un po' porno Porno Tu sei cattivo con me perché ma dove andate? a miami? miami vai ma greta loro non sentono il prendo come noi la nonna è bello perché questo divano oggi l'abbiamo ammortizzato no ma è stupendo il divano è ammortizzato papà dopo 20 anni possiamo cambiarlo dov'è? c'è? non c'è non c'è? 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 allora oggi è esattamente un mese che non riuscivo più a fare niente settembre per me è un mese difficilissimo sto facendo cambio ho ritrovato allora Selene è bravissima è comunque da fine agosto che non riesco più a fare nulla per mancanza di tempo e stamattina ieri sono andata a correre avete visto anche le storie ma così 20 minuti perché ero a pezzi e dopo un mese che non fai niente è difficilissimo quindi consiglio è non smettete mai perché ripartire è veramente difficile però bisogna farlo quindi io stamattina mi sono presa Selene che è bravissima ti dà veramente il motivo per farlo e non ti porta mai lei non ti porta mai a dire basta perché è equilibrata non è mai il troppo stroppa cerca sempre lei è molto per la costanza e alla fine premia è vero perché anche nel mio lavoro io non ho mai fatto la gara con nessuno costanza devozione e obiettivo gravi alla fine la gente poi si incontra e si riconosce io in Selene ho riconosciuto un po' me lo dico qua lei dirà no ma non dovevi è la verità vabbè buon lunedì a tutti grazie 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 a tutti